Quando parliamo di identità, corriamo facilmente il rischio di compiere una strazione che ci fa trascurare i tanti aspetti che questa parola ingloba, riducendo così qualcosa che è molto complesso e sfaccettato in rappresentazioni riduttive, vaghe o addirittura essenzialiste. Per identità si intende generalmente una somiglianza assoluta tra i diversi elementi, diversi aspetti che costituiscono una persona, una famiglia, un'area regionale, un paese intero, contraddistinguendo nitidamente ognuno di questi profili come specifici e unici. Tuttavia, le scienze sociali, psicologiche, culturali hanno dimostrato come sia ingenuo concepire l'identità come qualcosa di monolitico e nitido, facilmente conoscibile e riconoscibile, come se si trattasse di una marca di un prodotto commerciale. Per capire quanto sia articolare l'identità, cominciando da quella di ognuno di noi, dobbiamo specificare ogni volta di che tipo di identità vogliamo parlare. Abbiamo infatti un'identità psicologica, un'identità generazionale, di genere, sessuale, familiare, fisica, corporea, così come un'identità legata al luogo di provenienza, al nostro luogo di formazione, agli studi che abbiamo fatto, alla lingua che parliamo sin da quando nati, ai simboli condivisi che incorniciano la nostra sensibilità e il nostro orientamento cognitivo come simboli che fanno parte della nostra comunità di riferimento. Si aggiungono poi le questioni legate a un certo economico e sociale attraverso cui una società struttura e condiziona le possibilità dei suoi membri, quindi la professione, il luogo di residenza, gli stili di vita, le pratiche di consumo. Detto altrimenti, l'identità risulta dal modo sempre dinamico e mai chiuso in uno dei suoi diversi aspetti, con cui facciamo esperienza di tutti questi elementi nel corso del tempo. È qualcosa che si costruisce piano piano, che costruendosi diventa più percepibile da parte degli altri e anche di noi stessi. È qualcosa che si impara a riconoscere, che si scopre, attraverso gli aspetti simbolicamente più evidenti, ma rimanendo sempre aperta alla trasformazione. Non è qualcosa di statico, quindi. La storia dell'umanità è fatta di tante storie che si incrociano tra loro e che in maniera diverse riflettono la complessa stratificazione di ogni identità. In tal senso possiamo parlare di identità culturale, allora. Cioè come qualcosa che attraversa insieme la storia e la geografia, i processi economici e i valori simbolici, i gusti e le leggi, i sogni e i bisogni, le migrazioni e l'estanzialità, le tecnologie e i saperi, le arti, la spiritualità, la specificità di ognuno di noi e di quella del gruppo a cui facciamo riferimento. Non esiste infatti un concetto simultaneamente più proteforme e accalzante di quello di cultura. La cultura riguarda quasi tutto ciò che facciamo più o meno consapevolmente. Sembra qualcosa di molto generico, ma rimanda a tantissimi dettagli della vita pratica di ognuno di noi. il come si cucina e mangia, la maniera di abitare lo spazio urbano e quello domestico, il come ci si relaziona tra sessi e generazioni, a come si pensa al futuro, a come si pensa al passato, al tipo di sport che si pratica, a come ci si veste, come ci si cura della salute, che rapporto abbiamo con l'ambiente, che rapporto abbiamo col denaro, come si naviga online, come si organizza il lavoro e gestisce quindi il tempo libero, come si affronta la morte e come si accoglie la nascita. Tali pratiche culturali possono rivelare l'esistenza di molti modi di sentire innanzitutto e di intendere aspetti fondamentali della vita personale e sociale, riflettendo così abiti culturali diversamente radicati nella sfera sociale. La nostra sfera sociale intesa come sia locale che globale. Tuttavia, nella contemporaneità, tali diversità si ritrovano sempre più ravvicinate, coesistono in spazi attigui, a volte si sovrappongono o addirittura confliggono. Ad ogni modo, ognuno di questi abiti culturali rappresenta un insieme di immaginari e sensibilità distinte formatisi nel tempo, ereditate, che in maniera differenziata coinvolgono sia le singole persone sia i diversi gruppi di cui sono membri. Quella che qui interessa sottolineare è che c'è chi pensa e sente le culture come scatole chiuse e impermeabili alle differenze, al cambiamento, e chi come, al contrario, pensa le culture come dei sistemi porosi che assorbano le differenze, i contesti sociali nuovi e quindi anche dinamici, che cambiano. Nel tempo le pratiche e i valori culturali di una data comunità o società si modificano e ritraducono in altri nuovi valori, ma naturalmente possono anche rigidirsi e farsi respingenti. L'esito di tali cambiamenti dipende sempre dai contesti storici e dalla maniera delle culture di sentirsi più o meno a proprio agio con le trasformazioni sociali e con l'emergere delle alterità, cioè l'incontro con le culture diverse, con le nuove sfide etiche e politiche. Quando l'identità culturale di un gruppo non è promossa dai suoi rappresentanti come qualcosa di rigido, allora diviene possibile, da parte dei suoi membri, fare esperienze individuali più libere. Di modo che le questioni dei rapporti personali interculturali si intrecciano attraverso incontri e situazioni sociali più aperte agli scambi. L'identità, possiamo dire, è qualcosa che ci accompagna sempre e allo stesso tempo sempre cambia. Grazie. 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 Grazie.